in quel tempo pietro si avvicinò a gesù e gli disse signore se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli fino a sette volte e gesù gli rispose non ti dico fino a sette ma fino a settanta volte sette per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al padrone tutto l'accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello nessuno può riscattare se stesso o dare addio il suo prezzo per quanto si paghi il riscatto di una vita non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba pensate sia facile lasciarsi perdonare no non lo è affatto e sapete perché perché il perdono è gratuito e noi uomini non siamo abituati al gratuito non ci fidiamo così ricorriamo alle logiche di compravendita chiedo il perdono ma pago il riscatto ma con dio non funziona così nessuno può riscattare se stesso o dare addio il suo prezzo che cosa può mancare a dio che io possa aggiungerli sentite cosa succede a questo signore nella parabola doveva al suo re diecimila talenti una infinità di soldi da qualche parte ho letto che potevano servire per comprare un intero esercito di soldati qualcuno ha fatto il conto paragonandoli oggi a circa 50 milioni di euro chissà cosa ha combinato per trovarsi una insolvenza di questo genere ma non si è dato saperlo sappiamo che non poteva permettersi di scontare quella cifra allora va dal re e lo supplica abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa attenti bene dice proprio così ti restituirò ogni cosa come gli salta in mente di promettere una cosa del genere e comunque il re non se ne occupa della restituzione da gran signore gli condona tutto ecco gli condona tutto senza aggiungere altro cioè non vuole altro quel condone gratuito solo frutto della compassione verso quel servo un vero giubileo cosa avreste fatto voi nei panni di quel servo beh io sarei andato alla locanda più vicina per brindare alla generosità del re e invece lui no va a cercare i debitori come lui vuole restituire il riscatto contabilizzato non dalla misericordia del re ma dall'orgoglio di chi non sa farsi perdonare e così finisce per creare male su male fino al punto di essere reietto dal suo stesso re e allora sai lasciarti perdonare da dio o vuoi mettere sempre l'ultima parola quanto vuoi tenere il controllo sui doni di dio quanti conti gli fai in tasca il film che vi propongo oggi è father's to un film recente del 2022 tratto da una storia vera è una storia di riscatto affidato unicamente alla misericordia di dio cinematograficamente non è da 5 stelle ma a mio parere fa riflettere molto ed è una bella testimonianza cristiana